ho scritto pure se vuoi una poesia su questo cardinal castello una poesia ho detto poesia ma la poesia è forse un'altra cosa il cardinale castello erano ormai tanti anni che il cardinal castello veniva da questo paese per raffreddare il suo girevello lasciava la marina con l'arsura estiva per chiedere la potenza di cauto che io non ne potevo un po' perché era grosso un po' perché aveva capito veniva a valleggiatura per perdere il lardo meno sono chi fa solo la banda pasta che ha cozzetta sparci freddo con l'uovo e contorno di fratelli panozzo di tommenia vino buono dalla fechiera anziché perdere il lardo si faceva più grosso da com'era pregava tutto il giorno a Dio alle santi e a Maria ma sacchianava tutta la famiglia la perpetua e la nazia un sacco di testa sacra una cascia con robe fene scarpozze fatte da sola e bagno tutte le mattine un po' di proviglie un po' di lavanna per tre ore si stennecchiavano anche la pugnazza fatica non c'erano di niente le orna per i piedi passavano contenti ma un rischio dei paesani non aveva niente confessava a tutti e poi dava giudizio assolviva in parte ecco un pugno prefettizio ognuno passando dentro questa chiesa enorme vette una cosa strana una statua riforma la cosa l'ho ancora sevo e la posso esaminare questa cosa non è cristiana di qua stavo a lavare e senza domandare perché ero messo al luogo dove c'era il vento suo e sbampavo subito lo fuoco chi mi rappresenta questa cosa con i testi se non si riconosciano manco le sue veste non sa ciò che la fece e manco la domanda le cose che non mi piacciono Cainza non ci stanno e se per caso noi domandiamo allo signore Cainza non le vuole tutte queste favore Pugliavo il convegimento di quello che a torto asseriva e la fece rompere non cercandoci il motivo un frate babbione che aveva con questa frazza la statua riforma rompeva a corpi mazza questo monaco babbione dopo che la statua scafazzava le coccia le cionneche per la terra sparmazzava e dopo questo misfatto si inchiede tutta la panza esempio genuino di come cammina l'ignoranza possibile che lo cardinale era un uomo più e devoto a Dio ma di queste persone che hanno l'occhio chiuso io non mi fico come una persa che ha muzzicato dello verme e della labba peccato che a questo cardinale non lo fecero papa perché se no vede quanto danno a via a combinare ma le cittadine che tenivano grande intelligenza a questo santo uomo non poteva dare l'indulgenza e per fermare l'ignoranza che non s'arresta tutti poveri e ricchi fermarono una ferma protesta forse lo perdono e la carità cristiana non s'avesse a usare per certi figli di buttana perdemmo una statua di vecchia memoria ma a dare giudizio non sogno io ma sarà la storia